Inizio di settimana di assoluto lavoro per il Pescara che in pochi giorni conta di chiudere la partita a mercato e consentire ad Alberto Colombo di lavorare praticamente con quello che sarà l'organico per la prossima stagione. Comincia il mese di agosto e di conseguenza anche il piede va maggiormente sull'acceleratore. Quanto seminato nei giorni scorsi ora va concretizzato, come ad esempio la trattativa che porterà il centrocampista italo-albanese Craia, che nelle prossime ore sarà in città per rendere concluso un affare imbastito qualche tempo fa con l'Atalanta e adesso alle firme. Il settore di centrocampo continua ad essere quello su cui lavorare maggiormente perché è quello più sguarnito. Se Craia è un'operazione praticamente portata a termine, virtualmente conclusa anche quella relativa ad Andrea Ghion del Sassuolo che ha concluso il prestito al Perugia e potrebbe arrivare molto presto in riva all'Adriatico per prendersi la zona nevralgica del terreno di gioco. Solo 500 minuti in Umbria distribuiti in 12 spezioni non possono bastare alla crescita del ragazzo che nel Lega Pro troverebbe un progetto calcistico di alto livello alla Corte del Delfino. Con Ghion inoltre si potrebbe pensare ad un prestito di due anni, ma non è finita qui perché pare si sia aperto uno spiraglio anche per Salvatore Aloi dell'Avellino. Il problema sarebbe la formula del trasferimento, ma le ultime novità rivelano che si sta lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per questo la settimana che inizia oggi potrebbe portare novità interessanti per l'approdo in bianco-azzurro del centrocampista attualmente all'Avellino. La parola conclusiva spetta agli erpini che decideranno se far partire il centrocampista e se la formula individuata può essere quella giusta per arrivare alla definizione del tutto. Altra pista da seguire con particolare attenzione è quella che in difesa riguarda il centrale della Ternana Boben. Qui la formula con i rossoverdi sarebbe quella del prestito secco e la giornata di oggi sarebbe determinante perché potrebbe arrivare la risposta da parte del giocatore al trasferimento in Abruzzo. Poi mancherebbe un sostituto del partente Borrelli, approdato al Frosinone. Gabriolloni del Como è più di un'idea, ma la priorità adesso pare essere la mediana. A Teramo invece quella di domani sarà la giornata decisiva per il futuro calcistico bianco-rosso. Nella settimana che porta ai calendari domani ci sarà la discussione al Tar, col diavolo che spera in un ribaltamento complessivo rispetto alle pronunce della giustizia sportiva finora sempre avverse. La strada è davvero molto stretta e il piano di salvataggio in caso di ulteriore diniego parrebbe già in cantiere. La speranza è quella di non dover ricorrere ad una strada alternativa che segnerebbe la fine del professionismo. Domani discussione e poi la decisione. Poi si potrà cominciare a pensare a bocce ferme per quale campionato cominciare a prepararsi.